Oggi siamo qui per presentare la nuova versione della app di Agrigento, una app che riesce a dare i tempi di attesa alle fermate. Quindi è un'app pensata per gli utenti, per tutti coloro che vogliono usufruire del bus avendo la certezza del percorso della fermata, dell'orario di partenza e dell'orario di arrivo. Quindi niente più attese lunghe alle fermate ma con una semplice app scaricabile dagli store sarà possibile per tutti gli abitanti di Agrigento, per i turisti e per tutti coloro che arriveranno poter scaricare un'app con semplici indicazioni e poter avere tutte queste informazioni. Visualizzazione del percorso, orari alle fermate, tempi di attesa, tutto in real time. Quindi significa costantemente aggiornate secondo per secondo. Oggi viene presentata un'app per il trasporto pubblico locale. Praticamente grazie a quest'app anche Agrigento entrerà nelle città delle smart city e quindi della mobilità sostenibile. Un'app che consentirà ai fruttori del servizio del trasporto pubblico locale, grazie al QR code, di avere in tempo reale la posizione dell'autobus e delle linee che intende prendere per muoversi in città. Anche perché muoversi con sistemi di trasporto pubblico semplifica notevolmente la vita del cittadino. Quindi un sistema pubblico efficiente, di trasporto pubblico locale efficiente, semplifica notevolmente la vivibilità in città a livello di trasporto di viabilità. L'importante di civiltà, se si vuole, tutte le volte che parliamo di servizio al cittadino, inevitabilmente, tra i tanti, uno di quelli più sensibili è il trasporto pubblico. E come lo rendiamo questo servizio al cittadino? Grazie a tutti.